San Pantaleone di Gabriele D'Annunzio La gran piazza sabbiosa scintillava come sparsa di pomice in polvere. Tutte le case, attorno imbiancate di calce, avevano una singolare luminosità metallica. Parevano come muraglie di una immensa fornace presso ad estinguersi. In fondo i pilastri di pietra della chiesa riverberavano l'irradiamento delle nuvole e si facevano rossi come di granito. Le vetrate balenavano quasi contenessero lo scoppio di un incendio interno. Le figurazioni sacre prendevano un'aria viva di colori e di attitudini. Tutta la mole ora sotto lo splendore del nuovo fenomeno crepuscolare assumeva una più alta potenza di dominio sulle case dei radusani. Volgevano dalle strade alla piazza gruppi d'uomini e di femmine vociferando e gesticolando. In tutti gli animi il terrore superstizioso ingigantiva rapidamente. Da tutte quelle fantasie incolte mille immagini terribili di castigo divino si levavano. I commenti, le contestazioni ardenti, le scongiurazioni lamentevoli, i racconti sconnessi, le preghiere, le grida. Si mescevano in un romorio cupo d'uragano presso a dirrompere. Già da più giorni quei rossori sanguigni intugiavano nel cielo dopo il tramonto. Invadevano le tranquillità della notte. Illuminavano tragicamente i sonni delle campagne, suscitando gli urli dei cani. Giacobbe, Giacobbe, gridavano agitando le braccia alcuni che fino allora avevano parlato. A voce bassa, innanzi alla chiesa, stretti intorno ad un pilastro del vestibolo. Giacobbe, usciva dalla porta madre e si accostava agli appellanti. Un uomo lungo e macilento, che pareva infermo di febbre etica, calvo sulla sommità del cranio e coronato alle tempie alla nuca di certi lunghi capelli rossicci. I suoi piccoli occhi cavi erano animati come dall'artore di una passione profonda, un po' convergenti verso la radice del naso, d'un colore incerto. La mancanza dei due denti davanti alla mascella superiore dava all'atto della sua bocca, nel profferire le parole e al moto del mento aguzzo sparso di peli, una singolare apparenza di senillità faunesca. Tutto il resto del corpo era una miserabile architettura di ossa malcelata nei panni. E sulle mani, sui polsi, sul riverso delle braccia, sul petto l'acuta era piena di segni turchini, di incisioni fatte a punta di spillo e a polvere d'indaco, in memoria dei santuari visitati, delle grazie ricevute, dei voti sciolti. Come il fanatico giunse presso al gruppo del pilastro, una confusione di domande si levò da quelli uomini ansiosi. Dunque, che aveva detto Don Consolo? Facevano uscire soltanto il braccio d'argento? E tutto il busto non era meglio? Quando tornava a pallura con le candele? Erano cento libri di cera? Soltanto cento libri? E quando cominciavano le campane a suonare? Dunque? Dunque? I clamori aumentarono intorno a Giacobbe. I più lontani si strinsero verso la chiesa, da tutte le strade, la gente si riversò sulla piazza e la riempì. E Giacobbe rispondeva agli interroganti, parlava a voce bassa, come se rivelasse dei segreti terribili, come se apportasse delle profezie da lontano. Egli aveva veduto nell'alto, in mezzo al sangue, una mano minacciosa e poi un velo nero e poi una spada e una tromba. Racconta, racconta! Incitavano gli altri guardandosi in faccia, presi da una strana avidità di ascoltare cose meravigliose, mentre la favola, di bocca in bocca, si spandeva rapidamente per la moltitudine assembrata. La gran plaga vermiglia dall'orizzonte saliva lentamente verso lo zenith, tendeva ad occupare tutta la cupola del cielo. Un vapore di metallo in fusione pareva ondeggiare sui tetti delle case e nel chiarore discendente dal crepuscolo, raggi gialli e violetti si mescolavano con un tremolio di ridescenza.